Grazie a tutti. Più tardi ci collegheremo per fare la trasmissione Qui Caserta, quindi ci sarà con noi Francesco Giacquinto, presidente dell'Associazione Radicali Caserta Legalità e Trasparenza, e Domenico Letizia, segretario della cellula Coscioni di Caserta, non so se sarà con noi anche Luca Bove. Poi dopo andremo a Milano con Francesco Poiret, segretario dell'Associazione Radicali Milano, e poi ci sarà il Qui Calabria consueto. Parleremo di tante cose nelle prossime due ore, cose cogenti, cose interessanti, cercheremo di tenere un ritmo serrato e cercheremo di tenere chiaramente viva la vostra attenzione. Adesso il collegamento con Matteo è praticamente pronto, adesso lo porto in video, eccolo qua. Ciao Matteo, come stai? Ciao Marco, tutto bene, tutto bene. Saluto anche tutte le persone che ci stanno seguendo e mi aggancio a ciò che dicevi prima, anche io sono veramente contento che queste trasmissioni siano ricominciate, speriamo anche con una nuova forza. Benissimo Matteo, guarda, io chiedo alla chat se qualcuno riscontra qualche problema tecnico nell'audio, nel video, che ce lo segnali, perché chiaramente noi siamo qui, però non siamo espertissimi di lanci e di trasmissioni televisive, facciamo chiaramente del nostro meglio, però devo dire che stiamo migliorando notevolmente nelle ultime trasmissioni. TV Radicale è stata, diciamo, a sospeso le trasmissioni per un po' di tempo, adesso abbiamo ripreso, per cui dobbiamo un po' riannodare tutti i fili dai vari, chiamiamoli territori, dalle varie, come ti posso dire, dalle varie associazioni locali che sono in giro per l'Italia. Adesso, di che cosa parliamo Matteo? Abbiamo due argomenti di cui io vorrei parlare con te, il primo è la raccolta delle firme che ti vede impegnato in prima persona e poi dopo c'è anche una cosa che riguarda anche te direttamente, tu sei stato alla Costituente Ecologista e sei anche intervenuto, per cui, non lo so, da quale argomento vuoi cominciare? Io inizierei a parlare delle petizioni radicali, delle quattro petizioni radicali, per poi passare all'argomento della Costituente Ecologista, che magari può offrire anche più spunti, anche dalla chat, diciamo. Bene, bene, allora, te la parola, come sta andando questa raccolta firme? Allora, la raccolta firme qua nelle Marche è avvenuta in due capoluoghi di provincia, che sono Pesaro e Dancona. Dancona abbiamo raccolto le firme ieri pomeriggio e questa mattina, mentre a Pesaro le abbiamo raccolte in tutta la giornata di ieri e tutta la giornata di oggi. Infatti, fino alle sei e mezza eravamo ai tavoli a raccogliere queste firme. Beh, prima di tutto, guarda, spieghiamo ai telespettatori questa raccolta firme su che cosa verte, quali sono gli scopi. Sì, allora, le petizioni radicali erano quattro, quelle base, diciamo, che ci sono arrivate come proposta da radicali italiani, diciamo. Ed erano la prima sul sostegno allo sciopero della fame di Marco Pannella, perché dal 2 ottobre, se non sbaglio, sta portando avanti uno sciopero della fame per istituire soprattutto una commissione parlamentare di inchiesta per fare verità sulle origini della guerra in Iraq, perché sappiamo che Marco Pannella fece la proposta di convincere all'esilio Saddam prima dello scopo. meglio definirli, soprattutto da parte di Bush e Blair, fecero poi scattare questa guerra. Non è l'unico punto per cui Marco Pannella fa questo sciopero della fame, ma c'è un secondo punto che è quello che viene definita la bancarotta giudiziaria dello Stato italiano, ossia quella ormai morte della giustizia in Italia sotto vari profili, dai processi con tempi interminabili alla situazione delle carceri, che immagino che gli ascoltatori di TV Radicale conoscano bene. Poi c'è stata una seconda petizione, che era quella per la richiesta di restituzione di quelli che vengono definiti contributi silenti, che viene definita come slogan di questa petizione, una delle più gravi iniquità del sistema pensionistico italiano. La terza petizione era sulla riforma della legge elettorale in senso uninominale e la quarta ed ultima di quelle proposte comunque da radicali italiani era quella per la messa al bando universale delle mutilazioni genitali femminili. Ecco, so Matteo che tu proprio su questo punto da te vi state impegnando, proprio sulle mutilazioni genitali femminili vi state impegnando particolarmente. Sì, a Pesaro, cioè dove ho raccolto io le firme, ci siamo occupati solamente di questa petizione, perché comunque abbiamo anche creduto che meritasse un'attenzione tutta sua, soprattutto in questo momento. Prima di parlarvi però più approfonditamente delle mutilazioni genitali femminili, così vogliamo definire la cosa contro quella che viene definita acqua. pubblica, quando nessuno vuole privatizzare l'acqua e quando c'è stata una falsificazione forse anche a livello nazionale. Però questo a Dancona. A Pesaro, come vi dicevo, abbiamo raccolto firme soprattutto sulle mutilazioni genitali femminili perché a settembre si è tenuta l'inaugurazione dei lavori della 65esima assemblea generale delle Nazioni Unite e il vertice per gli obiettivi del millennio. Il governo italiano si è fatto portatore dell'appello contro le mutilazioni genitali femminili nelle persone del ministro degli esteri Frattini, della ministra delle pari opportunità La Carfagna e della prestigia come ministro dell'ambiente. Naturalmente era presente anche Emma Bonino, Emma Bonino che da tempi ormai possiamo dire in memory, ormai dagli anni 70 si occupa di questa tematica ed insieme a lei l'associazione Non c'è pace senza giustizia. Non c'è pace senza giustizia. Una tradizione che nasce da basi false, tanto che in Mauritania dove vengono fatte queste mutilazioni, che è uno degli statui dove questa pratica è attualmente in uso, i leader religiosi hanno emesso una fatua contro queste mutilazioni. Che cos'è una fatua? è praticamente la risposta fornita a un giudice musulmano da parte di un giurisperito, lo chiamano comunque un perito della legge... Tasha che chiede, ma lo sapete perché le fanno? Sì, le fanno soprattutto per una questione di controllo sessuale da parte delle donne, ma questo non spiega tutto. Questo spiega ad esempio la pratica dell'infibulazione, ossia quella pratica che va a cucire con una sutura o addirittura con delle spine, quindi figuriamoci le condizioni igieniche, quali sono i lati della vulva nella vagina, quindi lasciando un piccolo orifizio giusto per il ciclo mestruale e comunque per l'urina e quindi questo porta anche a delle infezioni gravissime nelle donne. Naturalmente questa non è l'unica mutilazione, ci sono altre mutilazioni come ad esempio la circoncisione che non è proprio come quella maschile, cioè va a invadere molto di più il corpo della donna. E un'ultima pratica comunque tra quelle più famose, se così le vogliamo definire, è l'escissione, ossia quella pratica che porta alla mutilazione... Grazie a tutti. Delle tradizioni che non hanno un senso poi pratico, ma c'è solo la concezione della donna che non deve provare piacere al momento dell'atto sessuale. Queste mutilazioni vengono inflitte a 3 milioni di bambine ogni anno, e perché bambine? Perché una volta era una cerimonia di iniziazione, ma non è più così da una parte grazie, se vogliamo proprio dire grazie, alla legge che ha iniziato a perseguire queste mutilazioni, perché adesso si tende ad anticipare queste mutilazioni che comunque se no sarebbero state fatte in età più avanzata, quindi quando la bambina o comunque la ragazza poteva andare a denunciare i propri genitori o comunque poteva non volersi sottoporre a queste mutilazioni. Adesso vengono fatte alle bambine piccolissime, spesso a pochi mesi dalla nascita, e questo porta a una cicatrizzazione dell'apparato genitale femminile che quindi gli crea poi anche dei problemi al momento dei rapporti sessuali o comunque dei problemi gravi all'apparato stesso. Matteo, guarda, mi inserisco un po' nella discussione perché volevo chiederti anche un'altra cosa. Ci stai dicendo delle cose assolutamente interessanti, noi abbiamo sempre il problema che è tiranno e purtroppo abbiamo soltanto 11 minuti a disposizione e quindi dobbiamo farci stare dentro un po' tutto. Volevo chiederti questo, come sta andando la raccolta delle firme? Volevo chiederti anche se le persone che vengono a firmare chiedono, si informano, quantitativamente i riscontri che state avendo e che obiettivi vi siete posti con l'associazione? Allora, iniziamo dalle prime domande. Praticamente è stato uno shock positivo da parte mia questa raccolta firme perché la prima raccolta firme dove vedevo comunque tantissime persone soprattutto data il posto in cui ci avevano dato praticamente la disponibilità per fare questi tavoli in quartieri di solito desertissimi una cosa che ci sono rimasto male quando me l'han detto però poi sono rimasto veramente impressionato dalla quantità di gente che veniva a firmare gente che mi diceva io firmo ma l'abbonino la odio io firmo ma voi radicali non vi sopporto e tutti soprattutto erano molto informati sulla questione delle mutilazioni genitali femminili tutti mi dicevano ho appena visto un documentario su questa cosa l'ho sentito alla televisione e tutte queste cose e soprattutto tante 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 persone anziane e quindi la raccolta delle firme sta andando bene non sta avendo delle difficoltà anche a livello quantità si, sta andando benissimo addirittura qua a Pesaro che comunque è una piccola città siamo riusciti in due giorni a raccogliere 200 firme che sono veramente tante soprattutto come ti dicevo prima per il posto in cui ci avevano dato questi tavoli sono dei posti dove le persone che passano sono sempre le stesse perché magari vanno da casa al negozietto quindi il numero di persone che transitavano in quei posti era veramente esiguo quindi 200 firme sono state per noi veramente un grande numero su Ancona invece non ti so dire precisamente i numeri perché ancora le stanno raccogliendo comunque credo che le raccoglieranno anche nei prossimi giorni Ho capito che obiettivi vi siete posti? cioè diciamo andate avanti ad oltranza avete programmato di fare una campagna solo per un determinato periodo avete programmato di raggiungere un certo numero di firme? sì allora questa campagna noi la volevamo fare prima del congresso però ci siamo organizzati colpa nostra anche un po' tardi quindi abbiamo avuto disponibile solo questo fine settimana però l'obiettivo che porterò avanti io è quello di sensibilizzare anche il comune della mia città ossia il comune di Pesaro su queste tematiche tanto che domani ci sarà un consiglio comunale andrò lì munito di moduli a raccogliere firme tra i consiglieri comunali e tra la giunta e parlerò anche con loro per chiedere di portare il comune a fare una dichiarazione contro le mutilazioni genitali femminili sappiamo che le dichiarazioni poi non hanno effetti però comunque sono dei segni che vengono mandati all'esterno guarda Matteo io vorrei utilizzare gli ultimi 7 minuti che ci rimangono di questo collegamento per parlare un po' di un'altra iniziativa e di un'altra cosa che ti ha coinvolto direttamente vale a dire la costituente ecologista so che tu sei stato lì che sei intervenuto e che hai un po' anche movimentato l'assemblea ce ne vuoi parlare? eh sì hai detto bene ho movimentato l'assemblea allora a Bologna il 16-17 se non sbaglio il 15-16 di ottobre si è tenuto questo primo meeting nazionale della costituente ecologista cosa sarebbe? i verdi hanno praticamente deciso di sciogliersi e di dare l'avvio a questa nuova avventura questa costituente ecologista che quindi in teoria non dovrebbe essere uno strumento finalizzato a ricreare i verdi io ho partecipato però a questo incontro e ho trovato solo verdi solo quadri dirigenti solo credo il comitato nazionale dei verdi e poche altre persone e quindi cosa ho fatto? ho detto ma perché no saliamo sul palco e diciamo quello che pensiamo è una costituente ecologista anche i radicali sono ecologisti e perché non portare anche le nostre istanze a questa costituente e così sono partito portando l'idea di discostarsi da quel fondamentalismo ideologico l'ho chiamato così dei verdi cioè quel fondamentalismo ideologico che li ha accompagnati in tutti questi anni quelle verdi fuori e rossi dentro che poi non li ha portati da nessuna parte e parlando del fondamentalismo ideologico mi riferisco soprattutto a due cose principalmente che sono l'acqua pubblica di cui vi parlavo anche prima e di cui ad Ancona abbiamo fatto una raccolta firme e il tema degli OGM cioè sono questioni di cui i verdi hanno discusso non so quanti anni ma neanche i verdi perché forse ancora non c'erano nemmeno gli ecologisti hanno discusso 20 anni fa e da 20 anni non hanno più tenuto conto dell'avanzamento della tecnologia del cambiamento del contesto dell'entrata nell'Unione Europea e quindi sono rimasti inchiodati a quell'ideologia del no, no, no senza vedere, senza fare una discussione interna Mattea, quando hai detto queste cose come ha reagito un po' l'Assemblea? Da Radio Radicale mi dispiace ma non si sente però avevo tanti che mi urlavano tanti che applaudivano tanti che fischiavano il pubblico aveva iniziato a parlare così tra loro le persone avevano iniziato a parlare tra loro tanto che sono sceso dal palco poi il conduttore diciamo di questo meeting in privato mi ha anche detto che coraggio adesso vai da loro e infatti ho avuto anche delle discussioni con professori universitari che avevano anche ragione in quello che sostenevano però in altri contesti in altre epoche diciamo e secondo te secondo te quali sono i margini avendo seguito questo evento quali sono i margini di collaborazione che tu puoi percepire e prevedere fra Radicali e questa costituente ecologista per cui questo movimento dove possiamo considerare il leader e il massimo esponente Bonelli i margini sono veramente ampi perché a parte questo fatto dell'ideologia incalzante comunque i Verdi sono sempre stato un movimento non violento con l'ultima mozione di Bonelli all'ultimo congresso nazionale dei Verdi la mozione di Bonelli sosteneva proprio il transpartitismo l'uscire dall'ideologia da una inquadratura di parte quindi a destra o a sinistra cioè l'ecologismo è un qualcosa che riguarda tutti non riguarda uno schieramento e quindi si colloca proprio nel transpartitismo del nostro partito radicale trasnazionale non violento traspartito eccetera e soprattutto i temi dei diritti civili forse sarebbero un po' da riscoprire all'interno dei Verdi anche se in questo manifesto che si chiamava Io Cambio il manifesto introduttivo della Costituente al primo posto c'erano proprio i diritti la legalità e solo al terzo punto l'ambiente quindi la mia speranza è un po' che anche l'ambiente verde abbia capito che senza diritti e senza legalità dell'ambiente ne possiamo solo parlare ma non possiamo agire sul concreto scusa un attimo questa mi sembra una cosa un attimo importante puoi ripetere perché mi sono per un istante distratto Sì dicevo praticamente che qualcuno ha anche proposto come nomi da inserire nel comitato direttivo adesso non so bene il comitato come si chiamerà comunque di fatto un comitato direttivo della Costituente Ecologista Bruno Mellano Bruno Mellano Certo questa qui è una notizia assolutamente importante poi Bruno Mellano mi sembra una persona assolutamente adeguata anche per ricoprire un ruolo del genere tu cosa ne pensi? Sì sì ma anche io sono d'accordissimo su questo Bruno Mellano è già stato poi è stato uno dei primi se non sbaglio firmatari di questo appello per la Costituente Ecologista poi vi ricordo che ha avuto anche l'approvazione da parte di Cappato e da Elisabetta Zamparutti che hanno parlato di una possibile collaborazione di di ampia ampia volontà di partecipare a questa Costituente ho capito quindi i margini ci sono tutti per aprire un confronto Bene Matteo abbiamo esaurito il nostro tempo siamo rimasti nei tempi perfettamente senza togliere spazio a nessuno anche se questi 30 minuti proprio come tempo sono assolutamente inadeguati per trattare gli interessanti argomenti che ci hai posto per cui si susseguiranno nei prossimi giorni nelle prossime settimane altri collegamenti con te per continuare ad approfondire per continuare a seguire anche le iniziative di cui vi rendete promotori poi c'è questo appuntamento importantissimo fra meno di una settimana a partire da venerdì il congresso di radicali italiani vi faccio solo una domanda al volo tu ci sarai al congresso? io ci sarò ma purtroppo solo per i primi due giorni per problemi con l'università che è sempre lì a puntare il dito quindi ci sarò solo per il 29 il 30 per le discussioni generali ma saranno assolutamente sufficienti anche per vederci per poter raccogliere anche le tue impressioni perché noi stiamo preparando ci stiamo preparando a qualche cosa di cui in questo momento posso soltanto accennare per stussicare un po' la curiosità di chi ci sta seguendo ma stiamo preparando delle cose molto interessanti per tv radicale cose interessanti che avverranno durante la quattro giorni di Chianciano Terme Matteo io con questo ti ringrazio e ti saluto veramente a risentirci presto allora e buona raccolta firme per avermi tenuto la regia e per avermi sopportato questa mezz'ora assolutamente è stato un piacere ti ringrazio di nuovo e a presto risentirci ciao